Come ho iniziato da poco, con le visite mediche e i vari test, ci stiamo preparando per andare poi in ritiro su Insila. Sì, già li conoscevo, mi hanno visto crescere loro, mi hanno già allenato quando ero giovane, nella primavera, quindi sono uno staff valido assolutamente. Ci prepareremo bene per questa nuova stagione. Come ho detto prima, lo staff è valido, il mister è un ottimo allenatore, assolutamente ha voluto prima conoscerci individualmente per sapere comunque le nostre caratteristiche, i nostri punti di vista e tutto quanto. Ci sono soltanto i presupposti per far bene, fa sempre piacere perché comunque siamo in una piazza in cui si sta davvero bene. Se più di qualcuno rimane qua qualche anno ci sarà un motivo. Ripeto, con la forza del gruppo, con la forza della città, dalla società e tutto quanto si può solo che far bene. Qualsiasi campionato giocheremo è sempre una lotta. Se partiamo la Serie A o la Serie B, la Serie B quest'anno abbiamo visto che sono delle squadre preparate e tutte vogliono far bene. Noi dobbiamo soltanto continuare sulla nostra strada, tenendo sempre i piedi per terra, lavorando, lavorando e poi i risultati arriveranno.